E' finito in manette Salvatore Mangione, vittoriese e pregiudicato latitante dal 2012. Sul 25enne pendeva un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Catania. Da diversi giorni i carabinieri lo avevano notato a girarsi per le vie del centro Epparino, da dove mancava ormai da ben tre anni. Si era infatti reso irreperibile nel corso dell'operazione Carte False, condotta dai carabinieri di Licata nel 2012, quando non era stato più trovato. Il giovane, insieme ad altre 52 persone, è ritenuto parte di un'associazione a delinquere operante nella provincia di Agrigento e in quelle limitrofe dal 2010 al 2012, finalizzata alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, per lo più cocaina, asci, cextasi e anfetamine. I militari del nucleo operativo e radiomobile di Vittoria, dopo aver avviato servizi di osservazione e pedinamento e di successivo riscontro, hanno monitorato i movimenti e le abitudini del latitante, riuscendo a circoscrivere l'aria e le persone che maggiormente frequentava, fino a chiudere definitivamente il cerchio. Nel tardo pomeriggio di ieri è scattato infatti il blitz in via Garibaldi, dove il giovane è stato fermato a bordo della sua autovettura. Condotta in caserma al termine delle formalità di rito, il 25enne è stato ristretto presso la casa circondariale di Ragusa. Ora al vaglio degli investigatori, che stanno proseguendo gli accertamenti, la posizione delle altre persone che frequentavano il pregiudicato, per accertare l'eventuale complicità nel favorire la sua latitanza.